ciao cosa faresti se ti dicessi che potresti ricevere gratis uno dei nostri corsi online ebbene da oggi è possibile come partecipando al nostro nuovo contest vinci con onyx per farlo ti basta cliccare nel link in descrizione all'interno della pagina iscriviti lasciando nome e email negli appositi spazi fatto questo avrai accesso alla tua area riservata per ricevere i premi che abbiamo messo a disposizione dovrai semplicemente accumulare dei punti come condividendo il contest o tramite il tuo link personale che trovi in alto a destra oppure utilizzando i pulsanti social di facebook twitter whatsapp e messenger sai qual è la cosa interessante per ogni persona o amico che farai iscrivere guadagnerai ulteriori punti ogni regalo si sbloccherà quando avrai raggiunto un determinato punteggio si tratta di buon in sconto fino a 500 euro che potrai utilizzare per i nostri corsi online puoi leggere il regolamento completo cliccando sulla voce termini e condizioni in fondo alla pagina sei ancora qui partecipa ora e cogli questa occasione per formarti gratis ciao